C'è ancora Davinskiva che appoggia a questo pallone, l'ha infatti. Crosia che deve palleggiare Davinskiva sulle mani del muro, piega. Questo pallone verso Davinskiva, ordine cerca avanti Davinskiva. Cerca ancora Vichinski il muro, si arriva Flotinischi, ci arriva Giannelli ancora una volta. Bel muro, spazio di Davinskiva. Nel nastro Leon, Giannelli, mantiene tutto da Recklinski, poi Davinskiva. Leon, ricostruzione, sul campo di Perugia, Flotinischi col mancino, si allunga Davinskiva. Molto a Leon, fortissimo verso Perugia, dice, deve rincorrere Orduna che innesca l'attacco di Zoban. Intanto Giannelli smarca ancora, coraggio, è il muro di Davinskiva. Orduna, Davinskiva risponde alla 5 di Anderson.